E' uul ragazzi qua come sempre è Travis che vi parla oggi sono qui tornato con un nuovo video su Call of Duty Black Ops 3 per portarvi un video con la Rift E9 che è una pistola che ho trovato come potete benissimo vedere dalla schermata nel mercato nero ieri mi sembra si ieri e ci ho giocato un po' l'ho portata quasi al livello massimo diciamo ci ho sbloccato un po' gli accessori perchè faceva cagare senza e quindi niente ci andiamo a giocare un TCT perchè vi assicuro che le modalità squadre raga vado sempre in negativo quindi è troppo difficile giocarci quindi ci andiamo a giocare un TCT dobbiamo giocare tutti contro tutti e ci becchiamo in partita sarà difficilissimo e l'obiettivo sarà di arrivare tra i primi tre rega non lo so vabbè comunque ci becchiamo in partita ok raga scita combine finalmente una mappa un po' più piccola perchè vabbè che piccola grande star ma fa schifo comunque cioè nel senso non è che se è piccola è meglio tra l'altro ce ne troviamo uno subito a destra e moriremo sicuro al 100% che moriremo allora vediamo un po' va quarta oh ma raga giuro che prima ho fatto una partita e non laggava adesso lagga di nuovo ma perchè abbiamo ucciso comunque grande raga non entrano i colpi cazzo questo era pure uno di livello 1 cazzo mi sono fatto turnare come un coglione minchia sii goto come le merde no no dai 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 stai scherzando comunque non si riesce a fare più di una kill di fila eh voi ci scherzate ma non si riesce a cosa fa questo oh mio dio dai stavolta rega ci dobbiamo arrivare a fare i primi tre però dai guarda questo qui ha capito che se salta non riesco a prendere oddio mio rega sto a fare una figlia partita comunque non vorrei dire ma è cominciata benissimo no rega no rega non ha non ha un senso non ha un senso poi questo si è fatto un guantone blu e l'altro rosso oh quanto cacchio il cazzo santo dio ok era cominciata bene oh ma perchè dovete tutti mirare a me ma che c'è sto solo io in lobby questo che cazzo fa ora torniamo anche questo eh guarda mamma mia perché era quello di livello 1 quindi alla fine gli sta ok abbiamo dato i calori comunque che la useremo contro di lui poverino che ha anche i pugni ok nasce uno da qui credo si mamma mia ecco quando entrano bene così i colpi mi va bene però quando lagga come prima è impossibile rega perchè già diventi ci va il colpo poi in più lagga anche guarda io che non so tirare le stun guarda questo ma cosa fa rega ma cosa fa ma rega ma sono tutto un branco di ritardati dentro sta lobby cioè se ci avevo riempito davvero faccio il nuclear questo non mi piace a pugni tra l'altro sto perdendo cioè chi è che sta a vincere fammi capire desti ritardati chi è che sta vincendo quello con i pugni scommetto no rega no mo se ne chiede già ho capito che aria tira vaffanculo me lo voleva oh madonnina santa allora proviamo a vincerla questa perchè questi sono tutti mezzi stupidi quindi magari si può anche tentare di vincere ma la vedo dura anche anche contro il botto a livello regolo ed è difficile vincere giuro questa arma poi guarda quanto lagga ogni tanto tira una laggata assurda ok oh merda raga comunque era meglio che mi mettevi il silenziatore perchè seriamente cioè dove sei dove minchia ok ok aspettate ok madonna signori mamma mia uavvi attenzione sanguinario e vabbè ovviamente per tirare il uavvi muoio come un idiota no no si fotti di merda faccateli al culo quei guanti di merda ok nasce uno da qui teoricamente eccolo qui no non è morto non ci credo vedete certe volte i colpi non si sa dove vanno a finire vi giuro non si sa ecco tipo quel colpo lì che cazzo di fine ha fatto questo te l'ha presa la pistola scusa vabbè non è buono sparare con i fusi normali vuole ammazzarmi con sta pistola ok ok concentrati concentrati siamo a 21 ok 22 dai 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 ce la possiamo fare non ci credo raga è un sogno che si realizza vincere con quest'arma no stavo per fare una doppia il che mi emoziona tantissimo dove sei oddio mio se mi tornava era veramente patetica come cosa no ma che cazzo c'avete tutti con questi guantoni no 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 regà mi sta ricoverando anche se non la vinco comunque è stata una bella partita vi giuro la migliore che abbia mai fatto con quest'arma perché seriamente minchia vabbè è quello scarso mi sa no non è quello scarso ma poi mi fa incazzare perché un colpo entra e l'altro no non si sa perché ok 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 mamma mia quanto sto concentrato regà ok ok due kill due kill due kill datemi due cazzo di kill vi prego tra l'altro 28 14 un signor risultato ok un'altra si no 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 era l'ultima era l'ultima ero sicuro di farla dove minchia no no ma regà non riesco a fare l'ultima kill è imbarazzante come cosa veramente molto imbarazzante eccolo perfetto e abbiamo vinto signori mamma mia è vero che erano ritardati però vabbè la lobby questa meglio così comunque ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto che l'arma vi sia piaciuta a me non è piaciuta per niente iscrivetevi nei commenti se l'avete provata se ce l'avete o come vi sembra dal video ve lo dico io fa schifo cioè non esultate se la trovate e noi ci becchiamo domani con un prossimo video lasciate un like un commento qui tra la vista è tutto e bella ragazzi